Signorina, lei ha un viso molto interessante. Vorrei farle un ritratto. Io sono Picasso. Grazie alle amici della certose di Capri abbiamo l'onore di avere due delle compagnie più importanti di Pablo Picasso. La ballerina Olga Goklova, prima moglie del grande autista. E Maria Teresa Walter, una delle tanti amanti. Scopriremo secreti, anche scambrosi, della vita di Pablo Picasso. Mi dica, signora Goklova. Madame Picasso, per favore, non ha mai divorziato da me. Ha portato il mio anello fino sul letto di morte. E Paolo è stato il solo figlio che abbia mai considerato legittimo. Nel profondo, il bastardo amava me. Solo che non lo faceva vedere. Signorina Valta, Picasso ha perso la testa quando l'ha vista la prima volta. Era anche in minorene lei, non è vero? Sì. E lui me lo ha detto che era sposato con Olga, ma a me non importava. Aveva degli occhi così belli, come il ribes nero. Sembrava guardare te e dentro di te e tutto intorno a te. Ti perforava con quegli occhi e tu volevi fare tutto quello che voleva. Un giorno, lui arriva e mi fa fiero come un pavone. Ho un bambino in arrivo. Beh, dico io, sorridendo dolcemente, che puttanella è questa volta? Scusi, ma non devi chiamarla puttanella. No, non importa, non importa. Io ho avuto la mia maria, che assomiglia tutta quanta a Pablo. E Olga mette i fantasmi dentro i suoi quadri. Mentre io, me lo ha detto Pablo, le faccio sparire. Le donne Picasso, le troverete solo al teatro Ghione. Noi faremo grandi cose insieme. Noi faremo grandi cose insieme.